domenica ritorniamo in campo ritorniamo in campo con il nostro stadio con i nostri tifosi e ci aspetta una partita difficile dopo la cosciente delusione che ci siamo tutti quanti presi mercoledì per noi per la squadra forse era la partita più più giusta da poter affrontare dopo mercoledì partita con la butiolana una squadra corazzata una squadra che sappiamo tutti essere la favorita per la vittoria del campionato e quindi probabilmente era la partita più giusta per affrontare e metterci subito mentalmente pronti ad affrontare una squadra del genere stiamo ovviamente lavorando su tante cose che quelle che sono sia per la butiolana ma anche su noi stessi dopo quello che è stato mercoledì e quindi cercare di andare in campo e dare il nostro 101 per cento dal punto di vista tecnico fisico tattico e soprattutto soprattutto mentale oltre a questo stiamo cercando ovviamente di recuperare anche chi magari ha avuto degli acciacchi e domenica mercoledì ha giocato con un antidolorifici ed è questo che i ragazzi stanno facendo con con grande cuore andando anche oltre i propri problemi fisici e personali e stanno dando tutto per per questa per questa maglia e l'hanno fatto nelle precedenti occasioni fino adesso e lo faremo a partire anche da domenica